credo che sia doveroso rendere onore rendere onore ecco e rendiamo onore noi qui amministrazione comunale ecco presente ai cardia che di nuovo stasera ci stanno donando ecco questa meravigliosa questa meravigliosa serata in allegria in musica canto e ballo e permettetemi ecco stasera me lo concederanno ecco più gli altri tutti i componenti del gruppo ecco il ringraziamento particolare ancora di più ecco stasera va lui ha fatto un passaggio prima eccola accennato va a Totò Nicolò ma a Totò ecco che come lui ecco come esempio anche perché chi attraversa momenti difficili ecco bui brutti insomma no dal punto di vista della salute ce ne sono tanti poi ecco vengono superati ed è di nuovo a essere punto di riferimento insieme a tutti gli altri con lui ringrazio davvero tutti tutti i componenti di questo gruppo che sta esportando condo furi il positivo la bellezza di condo furi la musica il canto la tarantella i nostri canti tradizionali popolari in direi ormai non solo in tutta la provincia di reggio calabria perché ecco sono capaci ormai si stanno veramente estendendo ecco e esportano le nostre le nostre eccellenze davvero grazie quindi il saluto a loro e il saluto e ringraziamento va poi a tutti voi tutti voi presenti la faccio breve lo so perché ancora vorrete ballare con una battuta ecco anche noi stasera abbiamo ballato c'era una battuta poco fa che facevamo ecco con un dipendente del comune che mi faceva la battuta che noi amministrazione comunale il sindaco in particolare la battuta è che il sindaco a condo furi da martedì anche se non c'è musica continua a ballare perché sono dei cittadini che che ci fanno ballare ogni giorno nel senso ecco sollecitazioni e risposte che noi siamo pronti e vogliamo dare è stato un anno impegnativo ma entusiasmante un anno che ci mettiamo alle spalle l'anno l'ho detto ieri a san carlo in quell'altra meravigliosa iniziativa che replicheremo in qualche modo domani pure qui alla chiesa regina pacis qui a condo furi marina ieri alla chiesa di san carlo è stato l'anno della semina l'anno in cui questa amministrazione ha cercato ecco di rimettere in moto e di mettere in moto una macchina amministrativa questo il 2014 ce lo auguriamo tutti e ne siamo convinti con la collaborazione di tutti voi il 2014 sarà l'anno della raccolta dei primi frutti del nostro operato i frutti concreti i frutti che potrete potremo toccare tutti con mano l'anno 2014 mi va come tra l'altro è stato ha caratterizzato ecco queste feste questo meraviglioso davvero questa immagine l'augurio migliore per una condo furi che vuole cambiare per la nostra condo furi che amiamo l'immagine che abbiamo di fronte a noi di quest'albero veramente bello un'intuizione un'idea dell'amministrazione comunale realizzata poi con la collaborazione l'impegno la laboriosità ecco di tutte le associazioni di tutti i soggetti ecco componenti delle associazioni nostre di condo furi che lo hanno poi realizzato questa l'immagine quindi l'albero che significa appunto ecosostenibilità fatto con le bottiette di plastica il coinvolgimento e la partecipazione ripeto di chi lo ha realizzato di chi ha permesso di realizzarlo con quelle bottie di plastica e quindi il discorso del riciclo della raccolta differenziata che speriamo anzi sicuramente ecco gennaio febbraio sarà anche i mesi di quest'anno 2014 che ci vedranno impegnati anche in questo collaboriamo quest'albero di natale questa immagine e permettetemi anche di mettere nel davanti all'albero di natale e l'ho vista proprio ed è stato per me veramente il migliore augurio ecco che è stato fatto anche a me e col quale vi lasciamo e vi auguriamo veramente il miglior 2014 possibile e l'immagine davanti a quell'albero di Rocco che conosciamo tutti Rocco è stato molto impegnato un ragazzo indiano che per tanto tempo qui a condofuri ha dato tanto anche impegnato ecco con a collaborare con le associazioni a lavorare ha messo ha postato postato ha messo su facebook ormai questo famoso ecco facebook quell'immagine con lui fotografato davanti a quell'albero la mette su facebook ormai Rocco è da un po' che si impegna e lavora nel crotonese in provincia di crotone quindi fuori da condofuri non perde l'occasione di venire qui tornare mette su facebook questa foto davanti a quell'albero lui e scrive I love my condofuri lui quindi come lui amiamo condofuri se la amiamo cambiamola cambiamola insieme grazie ancora Icardia buon anno a tutti e buon proseguimento finimi cantastù palazzo d'oro giù non mi serve i passari davanti c'è una figliola chi spandi tesoro ogni capitù portano diamanti murinarella mia murinarella murinarella mia quanto si bella murinarella mia murinarella murinarella mia murinarella murinarella mia quanto si bella murinarella mia quanto si bella murinarella mia quanto si bella Molina della mia, molina della, molina della mia, quanto di bella E tra i giubini me e tra i radetti, non mi si è visto di lì i miei vicini C'hanno la lingua come ali serpenti, taggiano come spadio di meschini Molina della mia, molina della, molina della mia, quanto di bella Molina della mia, molina della mia, molina della mia, quanto di bella Lo carro alla salita si trattene, e alla pentina grande fuori a picchia A cui non c'erli la farina buona, lo pane si lo mangia di canigia E molina della mia, molina della, molina della mia, quanto di bella Molina della mia, molina della, molina della mia, quanto di bella Guarda che polo che fici sta guaggia, canci pari la carucero picchia Puoi gatti in terra e si fici macchia, fici la malapasca e me la piglia Molina della mia, molina della mia, molina della mia, quanto di bella Molina bella mia, molina bella Molina bella mia, tanto di bella